L'Italia com'è e come la vorrebbe, più onesta, equa e solidale, e la speranza passa attraverso la fede dalla parte degli ultimi. Così canta Renato Zero nel suo nuovo album Alt, che vuol dire principalmente fermiamoci a riflettere. Un gran bell'album che Renato Zero racconta così. Sono figlio di un poliziotto e questo forse mi ha maggiormente inculcrato quella volontà, quel desiderio che la legge sia veramente uguale per tutti, come anche le opportunità, così come sempre in famiglia la vicinanza con questi zii sacerdoti. Mi ha fatto conoscere un Dio che fino a quel momento mi sembrava un po' un castigamatti. Cosa ti dà ancora la forza di salire su un palcoscenico? Il fatto che io sia in mezzo alla vita e non stia lì a lustrarmi i dischi d'oro, perché fra l'altro sono diventati tutti neri perché non erano d'oro. Anzi se becco quelli che me l'hanno dati gliene dico quattro.